Allora mi chiamo Malik Sene, vengo dal Senegal, però vivo in Italia da cinque anni. Io quando ero nel paese avevo i denti colorati che non mi piacevano. Quando sono venuto in Italia sono andato da tanti dentisti, però solo per tre denti chiedono tanti soldi e non lo fanno bene bene. Poi ho sentito alcuni parlano di Turchia, sono andato su internet, ho trovato Omer Istanbul, ho contattato su Whatsapp, ho cominciato a parlare con Kasim, lui è traduttore, è bravissimo, poi mi ha spiegato tutte le cose, come si fa per venire, il pagamento, tutti. E poi sono venuto qua, sono bravissimo, gli medici. Io consiglio a altre persone di venire qua a Omer Istanbul. Grazie a Omer Istanbul, adesso posso sempre sorridere, grazie a Omer Istanbul. All I need are some better days, yeah, all I need are some better days, cuz all I want and I pray, I believe in the better days.